Nove gare fatte, undici ancora da disputare, pagelle di metà campionato o quasi insomma, diciamo pagelle alla pausa estiva, allora proviamo intanto a ripercorrere un po' quello che è successo dal Qatar alla Germania, cominciamo appunto con le pagelle, faremo una serie di appuntamenti in questi giorni, in queste settimane e cominciamo dalle pagelle ricordando che tutto è relativo, per esempio facciamo un caso di due piloti che hanno la stessa moto, la GP24, le aspettative su Enea Bastianini e su Franco Morbidelli erano molto diverse alla vigilia di queste nove gare pur disponendo della stessa moto, ecco questo io credo che sia importante da tenere in considerazione. Allora cominciamo dall'HRC, da Luca Marini e Joan Mir, allora Luca Marini per me il voto è 5, è vero che ha fatto un solo punto, è arrivato spesso ultimo al traguardo, allora uno dice perché 5? Perché in HRC continuano a parlare solo bene di Luca Marini, considerano Luca il pilota migliore per portare avanti lo sviluppo, so che qualcuno non ci crederà, so che qualcuno farà delle riunie su questa affermazione ma questo è quello che dicono dentro al box e quindi secondo me merita un 5, se guardiamo soltanto le prestazioni il voto dovrebbe essere sicuramente più basso ma per il lavoro che sta facendo secondo me 5 è il voto giusto anzi forse per il tipo di lavoro che sta facendo meriterebbe anche la sufficienza ma i risultati è giusto tenerli in considerazione il migliore pilota Honda in classifica è Joan Mir al di là delle cadute, ecco io dico che per questo motivo è giusto dargli la sufficienza andiamo in casa Yamaha, anche in casa Yamaha le difficoltà sono tantissime e per me comunque Fabio Quartararo merita un 7 lui ha deciso di dare fiducia alla Yamaha e non si risparmia mai facendo sempre una netta differenza con il compagno di squadra Joan Alex Rins che per il momento purtroppo non arriva alla sufficienza Alex Rins continuo a confondermi con il suo ex compagno di squadra in Suzuki ecco Alex Rins naturalmente ha tante scusanti, non conosceva la moto anche se è comunque una quattro cilindrillina come quella che guidava prima ha una squadra nuova soprattutto non è a posto fisicamente però a mio modo di vedere non arriva alla sufficienza e adesso passiamo in casa Aprilia, allora Maverick Vinales, per me il voto di Vinales è alto, è 7 e mezzo due vittorie nella sprint, un gran premio conquistato in modo spettacolare ad Austin, altre gare negative insomma il solito Vinales, è comunque la sua miglior stagione in Aprilia ed è la prima volta dove è lui il punto di riferimento della casa di Noale anche perché Alex Spargaro a me sembra avere un po' mollato soprattutto a livello psicologico non è una cosa che fa così evidente però secondo me in qualche maniera dentro di lui non c'è più quel fuoco che aveva nelle stagioni precedenti e non a caso ha deciso di ritirarsi a fine stagione, ecco io in questo senso dico che ha mollato un po' a livello psicologico Alex comunque merita ampiamente la sufficienza perché comunque quello che ha fatto in alcune gare soprattutto a Barcellona è stato assolutamente emozionante se rimaniamo in casa Aprilia passiamo al team satellite Trackhouse io darei 5 e mezzo a Miguel Oliveira che è tornato a ottimi livelli in Germania ha faticato fino a quel punto però insomma sembra che stia tornando a ottimi livelli e do la sufficienza a Raul Fernandez che si dimostra veloce ma non riesce è troppo incostante, non riesce a mettere assieme tutti i pezzi ecco io credo che lui meriti la sufficienza ma credo anche che possa fare molto di più allora passiamo a Pedro Acosta casa KTM Pedro Acosta secondo me merita un 8 il debutto in MotoGP è stato spettacolare e addirittura entusiasmante poi è stato un po' risucchiato all'indietro dalle difficoltà della KTM rimane comunque lui il punto di riferimento della casa austriaca anche se Brad Binder è indietro in classifica generale solamente di due punti rispetto a Costa ecco Binder per me è un po' una delusione di questa prima parte della stagione non si può andare oltre il 5 e mentre è insufficienza piena per gli altri due piloti secondo me Jack Miller e Augusto Fernandez purtroppo sono da 4 allora cominciamo adesso con un po' di piloti italiani Franco Morbidelli che ha ottenuto come miglior risultato un quarto posto nella sprint mentre ha fatto quinto in gara ecco Franco Morbidelli secondo me merita 7,5 perché dopo tanti anni con la Yamaha dopo aver saltato tutti i testi invernali non si poteva pensare che salisse su una Ducati nonostante la Ducati sia la moto migliore e più competitiva del campionato ecco non ci si poteva aspettare che lui salisse comunque sulla Ducati e fosse subito competitivo passo dopo passo però sta ritrovando la velocità dei tempi migliori e a me devo dire la verità è piaciuto molto fino adesso e in Germania ha fatto vedere che ormai può essere considerato recuperato fatemi usare questo termine a tutti gli effetti vediamo cosa dirà il proseguo del campionato ecco invece adesso passiamo a un pilota che fino adesso ha decisamente deluso per me il voto a Marco Bezzecchi è 5 io dico che per certi versi è la delusione principale di questa prima parte della stagione perché dopo aver ottenuto tre vittorie nel 2023 con la GP22 ci si aspettava molto di più in questa stagione ma Marco fatica a capire la GP23 anche se un podio è comunque riuscito a portarlo a casa ecco io credo che lui abbia un po' bisogno di ripartire da capo e io spero che questa vacanza, che questa lunga pausa gli permetta di ritrovare un po' di serenità che sembra aver perso ecco devo dire che Marco Bezzecchi mi piace perché comunque lui non si abbatte, ci crede, ci prova ma i risultati purtroppo non avvengono ecco la cosa, l'unico aspetto positivo della stagione di questa prima parte della stagione al di là del podio di Hiretz che è comunque un podio, ricordiamolo ecco la soddisfazione più grande per Marco è essere riuscito a ottenere un contratto da pilota ufficiale con l'Aprilia per i prossimi due anni il suo compagno di squadra Fabio Di Gianantonio per me merita una sufficienza piena sei e mezzo, forse anche sette dico che dopo Marquez è quello che ha fatto meglio con la GP23 la velocità ce l'ha e sbaglia pochissimo deve migliorare in qualifica e soprattutto nelle partenze che sono state fino adesso disastrose o quasi insomma è quello il limite di Fabio Di Gianantonio ma se poi andate a vedere quello che succede dopo la partenza quello che succede dopo i primi due giri ecco vi accorgerete che Di Gianantonio gira con i tempi dei migliori ecco quindi secondo me si conferma un pilota di ottimo livello sei e mezzo, forse gli sta stretto però sono convinto che nella seconda parte di stagione può fare davvero tanto e allora altro pilota italiano Enea Bastianini quattro podi totali nei GP per me il voto è sette è sicuramente in crescita rispetto all'anno scorso ma non è ancora esplosivo come nel 2022 in alcune circostanze mi viene in mente il meraviglioso sorpasso su Martina all'ultimo giro alla Bucine al Mugello ha fatto vedere le sue grandissime qualità ma la differenza con il compagno di squadra è stata fino adesso netta ecco io credo che Enea Bastianini possa fare di più e anche lui credo sia convinto di poter fare di più e allora adesso arriviamo a Mark Marquez Mark Marquez che ha ottenuto cinque podi nella sprint e quattro podi in gara per me il voto è otto esaltante in alcune rimonte incisivo in molti sorpassi è vero, va sottolineato che con lui c'è più spettacolo questo io credo che sia innegabile rimane però il limite di non aver vinto ancora un gran premio anche per alcuni suoi sbagli alla vigilia della stagione molti dicevano vedrete Mark Marquez basta che abbia una Ducati di qualsiasi tipo da mezza pista a tutti ecco non è così non è assolutamente così e con lui gli appassionati si dividono sempre c'è chi dice che sta facendo benissimo e invece chi lo critica i numeri che poi alla fine sono solo quelli che contano sono sicuramente dalla sua parte io credo che Mark Marquez nella prima parte della stagione sia stato efficace manca però la vittoria e ripeto secondo me ci sono state delle gare dove questa vittoria non è arrivata anche per colpa sua allora andiamo adesso da un altro spagnolo Orge Martina quattro vittorie nella sprint due nei gran premi secondo me merita otto e mezzo Orge Martina anche in questa stagione continua a trasmettere un grande senso di velocità velocità pura però proprio ma pesano troppo pesano troppo tre sbagli importanti compreso l'ultimo in Germania quando aveva ormai la gara in mano per certi versi è stato trattato malissimo dalla Ducati è stato quasi preso in giro ecco nonostante questo lui dimostra di avere un gran carattere lui ci crede nel titolo mondiale e io credo sono convinto che se lo possa giocare ancora Bagnaia è nettamente il favorito ma secondo me Martina può può in qualche maniera può in qualche maniera lottare assieme a Bagnaia Bagnaia che rimane secondo me il pilota più forte anche in questa stagione ha ottenuto due vittorie nella sprint sei vittorie nei gran premi su nove disputati quindi i numeri sono pazzeschi secondo me è nettamente il pilota più forte della prima parte di stagione è lui che fa la differenza ha commesso un solo vero sbaglio quello nell'ultimo giro nella sprint a Barcellona mentre era saldamente al comando ecco quello lo reputo uno sbaglio grave ma nel complesso Bagnaia ha fatto vedere delle cose entusiasmanti mi viene in mente il doppio sorpasso all'esterno di Arez la partenza di Barcellona con quella prima e seconda curva da manuale i sorpassi su Marches i controsorpassi su Marches a Arez insomma sono tantissimi gli episodi che dicono che Bagnaia è un grandissimo campione del mondo queste sono le pagelle a metà campionato o quasi questa è la notizia la notizia in prima fila di oggi io sono lo ZAM vorrei sapere la vostra opinione La notizia del mondo l'anima la notizia Grazie a tutti.